Il Consiglio Comunale ha aperto oggi la seduta con la commemorazione di Mario Guida, decano dei librai italiani scomparso a 85 anni, primo in Italia ad organizzare reading letterari ed incontri di presentazione di libri, a lungo presidente dell'Associazione dei librai italiani. Nella saletta rossa della libreria di via Portalba sono passati eminenti rappresentanti della cultura italiana ed internazionale, da Umberto Ecoa a Giuseppe Ungaretti, Allen Ginsberg e Jack Kerouac, fino alla chiusura della libreria nel dicembre 2014. Con il primo punto all'ordine del giorno è stato poi approvato un documento che invita il sindaco a conferire a Diego Armando Maradona la cittadinanza onoraria di Napoli, come riconoscimento dell'impegno e dell'amore per Napoli, manifestato anche nei risultati sportivi che hanno reso onore alla città. Dopo una proposta iniziale di rinvio della discussione in Commissione Sport, ha prevasto la volontà di procedere con la votazione, che va verso il riconoscimento della cittadinanza al più grande calciatore di tutti i tempi, che presto quindi sarà anche ufficialmente napoletano.